allora amici lettre p oggi siamo qua alla 35esio a mostra del radicchio di martellago attenzione con l'amico daniele picci del canale youtube libio ortaggi ciao ciao ragazzi per assaggiare questo fantastico radicchio impanato che è una cosa sublime tu che sei esperto di ortaggi questo questo è il fiore d'inverno ragazzi è uno spettacolo non ci resta che assaggiarlo dobbiamo assaggiarlo aprirlo bene che si veda come come dentro ma che roba profumatissimo io lo mangio adesso spettacolo bellissimo gustosissimo la panatura è perfetta venite a trovarci alla 35esima mostra radicchio a martellato parola di daniele del giortaggi tua e di paolo paolo faolo del 3p ciao ciao ragazzi